Sono Consiglia Aquino della libreria L'Angolo delle Storie di Avellino, una libreria tutta arancione che è nata per il volere di una professoressa di lettere in pensione. Un incontro nell'arancione forse casuale, il destino, non so, ma io 14 anni fa ho iniziato questa avventura tra le storie. Grazie a tutti! Non pensavo fosse la mia strada, invece è lei che mi è venuta incontro. Ho riconosciuto appunto questo cammino che dovevo evidentemente fare. Il caso si chiama Lia. Ho incontrato Lia in un momento particolare della mia vita. Si erano chiuse delle porte e invece poi si è aperto. Io dico sempre che sono rinata. La mia vita in fondo inizia con l'angolo delle storie. Vivere in una libreria per bambini, e dico vivere perché la maggior parte del tempo lo posso qua, è bellissimo, di soddisfazioni sono ricca. bambini che crescono qua, genitori attenti, insegnanti attenti. Purtroppo non è così generale questo tipo di attenzione verso il libro. Il libro che tendo sempre a dire, a volte sembrando un po' schizzinosa, è il libro di qualità. E dico sempre che in questa libreria vengono scelti uno a uno, perché è la verità. Ed è per il rispetto che ho verso l'infanzia, i ragazzi, i bambini, le bambine. Nulla di quello pubblicizzato è in questa libreria, a meno che non abbia una qualità, ma deve essere giusto per loro. Ogni parola deve essere giusta, misurata, scelta. Io dico sempre che io mantengo il mio sogno, lo mantengo, cioè lo alimento, perché effettivamente è difficile mantenersi. Le difficoltà economiche sono tante, le spese sono tante. Ovviamente anche la merce libro è particolare. Noi indipendenti guadagniamo poco rispetto al libro e rispetto a tutto quello che c'è intorno. E quindi la difficoltà è quotidiana. Quello che entra è già pronto per uscire, per comprare le cose, perché poi le novità ci devono essere, le cose belle ci devono essere. La cosa che mi piace di più è che ho scoperto appunto di volere, e anche un po' di saper fare, è leggere ad alta voce ai bambini. E quando questo spazio si riempie di bambini e bambini che restano a guardare albi illustrati bellissimi e ad ascoltare le storie, per me è dire che devo continuare. E lo faccio anche nelle scuole, dove mi chiamano, nelle piazze, sulle panchine, ovunque. Librerie come queste, e in Italia adesso ce ne sono davvero tante, e ci accomuna questa passione, questo voler dare qualcosa a questi ragazzi, a questi bambini che stanno crescendo. Far capire quanto è importante il libro, anche e soprattutto come alternativa, anche se dovrebbe essere la cosa principale, a questi mezzi elettronici che si stanno succhiando, nel vero senso della parola, i loro cervelli, le loro emozioni. Il mondo sta cambiando per questo, e quindi rompere queste catene, Brodari diceva, per non rendervi schiavi, leggete, e leggete cose importanti, quelle belle, quelle giuste. Noi stiamo qua per questo, e ripeto, siamo un esercito, siamo in tanti, e cerchiamo di farlo nella maniera migliore.